No, no, non entrare! Perché lo fai? Ehi, Emily? Mandy! Ah! Era uno scherzo, sono io! Perché l'hai fatto? È solo una maschera. Tra l'altro fa benissimo alla pelle. Quello che serve è un flacone di colla vinilica. Basta applicarla con cautela sulla fronte e stenderla con un pennello per il trucco. Facciamo lo stesso sulle guance, fino a quando tutto il viso non sarà coperto. Dopodiché dobbiamo aspettare. Una volta asciutta, bisogna mimetizzarla. Userò il mio correttore liquido. Metto un paio di gocce sulla fronte. Poi lo sfumo con una spugnetta per il trucco, in maniera uniforme. Non voglio che si veda neanche una goccia di colla. Dopodiché posso staccarla. Non solo fa bene alla pelle, ma è anche soddisfacente. Nessuna imperfezione. Non vedo l'ora che inizi la festa. Ragazzi, questo è uno dei miei rossetti preferiti. Un momento, me ne serve altro. Forse non va bene. Devo metterne un altro po'. Mi sa che non sta venendo bene. Mandy, ma che combini? Potrei guardarla tutto il giorno. Adoro le commedie. E adoro anche le patatine. Ma non voglio rovinare il rossetto. Devo essere perfetta sotto al vischio. Buone. Un momento. Si è sbavato il rossetto. Che fastidio. Sembro un clown. Essere belle è un duro lavoro. Perché preoccuparcene? Una chiave. Come è arrivata qui? Questo tizio si crede divertente. Ho, ho, ho. Vorrei avere labbra più carnose. Per fortuna gli elfi di Babbo Natale si sono dati da fare. Wow, wow. Questo pratico gadget vi darà labbra carnose. Ma che bello. Lo voglio. Per favore, dammelo. Buon Natale. Per favore, per favore. Oh, guarda. Non ci credo. Proviamolo subito. Ah, come sto? Malissimo. Ok, provo io. Spero funzioni. Che strana sensazione. Ma è divertente. Mentre aspetto, mangio le patatine. Mmm, deliziose. Ciao ragazzi. Sono tornate. Mi sento così glamour. Lo so, sono splendida. Non posso farci niente. Mi viene naturale. C'è qualcuno alla porta. Di già. Mandy, non sei pronta. Ehi, le tue labbra sono fantastiche. Oh, che bello. Ok, vado io alla porta. Ehi. Ehi. Entrate pure. Facciamo festa. E vai. Controlliamo i capelli prima di uscire. Cosa? Non è possibile. Ma quanti brufoli ho? Ho un aspetto orribile. E non vanno via. Ah, che fastidio. Perché mi capita sempre? Emily, guarda. Che posso fare? Non posso uscire in questo stato. Va tutto bene, non preoccuparti. Non può essere così grave. No, non guardarmi. Sono orribile. Insomma, non si nota molto. Guardali. Oh, in effetti sono un sacco di brufoli. Perché l'universo mi odia? Ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Aspetta. Pensa. Devo inventarmi qualcosa per Mandy. Aha, il correttore. Aspetta. No, non basterà. Adoro questo profumo. Una spruzzata al volo. Che fragranza incredibile. Ok, dov'ero? Oh, è questo? Perfetto. Non perdere tempo. Almeno facciamo un tentativo. Ok, cosa ho da perdere? Siediti. Una bella spruzzata. Mi ricorda un brufolo. Solo che è un detergente. Lo spalmo bene in faccia. Oh, piacevole. Fidati, questo farà la differenza. Wow, mi sono sempre chiesta come sarai stata con la barba. Ho un'aria sinistra. Gli occhiali ti donano. Forse hai esagerato un po'. Ma mi piace. Questo è il look migliore. Wow, la mia pelle è fantastica. Niente più brufoli. Wow, grazie, amica. Aspetta, Emily. Cosa? Che c'è? No, non è possibile. Ci penso io. No, stai indietro. Non mi scappi. Oh, nessuno è in giro. Devo fare molto silenzio. Spero nessuno mi abbia sentito. Ok, tutto bene. Devo evitare il gradino rumoroso. Ce l'ho fatta. Che sollievo. Mamma si arrabbia se scopre che sono tornata a quest'ora. Chi c'è? Come va? Bella serata? Che stai facendo? Facevo un giro. Sei una monella. Allora, via da qui. No, non credo che me ne andrò. Aspetta, che cos'è? È qualcosa che pende dal naso. È un piercing. Wow, bellissimo. E ne hai uno sulle labbra. Puoi smetterla, per favore? Ti ha fatto male? Che figata. Anch'io voglio un piercing. Questo non è possibile. Ma perché a te permettono tutto e a me no? Ed ecco le lacrime. Un classico. Non è giusto. Ssss, abbassa la voce. Sveglierai, mamma. Oh, davvero? Wow. Wow. Ok, ma devi stare zitta. Non riesco a crederci. Aspetta, ho una grande idea. Posso usare una perlina del braccialetto. Non servono aghi. Mi serve solo della colla vinilica. Oh, è così incredibile. Che solletico. Ora devo incollare la perlina alla colla. Mi sembra molto realistica. Ecco, hai un piercing al sopracciglio e uno al naso. Ne mettiamo un altro sulla bocca. Wow, lo adoro. Wow, ma è fantastico. Sei la sorellona più cool del mondo. Cos'è questo rumore? Ragazze? Oh, oh. Non mi sento molto bene. Questa non me l'aspettavo. Si sarà fatta male. Mandy sta dormendo. Oh, ma guardala. È l'occasione perfetta per farle uno scherzo. Sarà un'impresa epica. Ecco, il mio lavoro qui è finito. Che stai facendo? Cosa? Di che stai parlando? Che cos'è? Perché mi fai questo? Mi serve aiuto. Pronto? Ho un'emergenza. Ha fatto cosa? Mi ha fatto crescere la barba. Da quanto tempo sei lì in piedi? Vabbè. Che tragedia. Ragazza, hai ancora il tuo fascino? Guardami. Scherzavo. Sembri un lupo mannaro. Dobbiamo fare qualcosa. Siediti. Fammi dare un'occhiata. Oh, non va bene. Lo so. Ma posso fare qualcosa? Mi serve solo la mia fidata pinzetta. Non credo che funzionerà. Ci serve qualcosa di più potente. Come la mia gomma. Che schifo. Ripensandoci non hai tutti i torti. Cos'altro ho? Questo può essermi utile. È sicuro? Sembra doloroso. Andrà tutto bene. Ti passo questo sulla faccia. I fili rimuoveranno i peli. Facile e veloce. E non servono pinzette o cera. Questo oggetto fa tutto il lavoro sporco. Wow, non sento nulla. Grazie. Ora passa alle sopracciglia. Ricevuto. Mi sento di nuovo me stessa. Sei bellissima. Oh, è vero. Ce l'ho fatta. Sono un genio. Come farei senza di te? Saresti estremamente pelosa? Beh, sì. Me lo presti? Certo. Perché no? Grazie. Devo vendicarmi. Per favore, non svegliarti. Questa me la voglio godere. Ecco perché non si scherza con me. Sembra la gamba di un Bigfoot. Ma che? Chissà che cos'è. Hanno bussato. Magari è Babbo Natale. Un altro regalo? Aiuto. Dove vai? Aprimi. Sorpresa. Sono io. Uno scherzo fantastico. Grazie, mammina. Non fate tardi. Un attimo. Ma guardate che capelli. Che disastro. Non potete uscire in questo stato. Bisogna aggiustarli. Metto un elastico sull'aspirapolvere. Poi aspiro i capelli di Grace. Fa il solletico. Con l'elastico faccio una bella coda. Ora tu, giovanotto, ti faccio una bella acconciatura. Oh, come siete belli. Divertitevi a scuola. Ciao. Che fortuna che ho. Oh, ma guarda qua. Ma è ridicolo. Davvero va di moda questa roba? Potrei lavorare anch'io nella moda. Basta fare il bronciu. O la faccia pensierosa. Io ce l'ho sempre. Oh, wow. Adoro i suoi capelli. Chissà. Forse dovrei cambiare look. Faccio un tentativo. Non sarà complicato. Comincio con questa ciocca. Ci siamo. No! Sarò un vero schianto. Fermati! Dammi le forbici. Non farlo. Ma posso tagliarmi i capelli da sole? Lascia che ti racconti. Una volta ero come te. Oh, mi starebbe bene la frange. È l'idea migliore che abbia mai avuto. Non sto nella pelle. Ecco fatto. No! Cosa ho fatto? Ci è voluto un anno per tornare presentabile. Davvero? Ma a me piace questo stile. Non è male. Ok. Ti aiuto io. Tiriamo indietro i capelli. E facciamo una bella code. Oh, bello. Ora spingiamo in avanti la code. Wow. E ora una bella bandana. Ora possiamo farti la frangia. Ti sta davvero bene. Sei la migliore. Selfie. Dai. Ehi. È questo il mio taglio? Emily? Che c'è? Ho appena trovato il mio nuovo look. Proviamoci. Non se ne parla. No. Ti qui. Chau. No. La nuova scuola è bellissima. Quelli sono assorbenti. Che c'è da ridere? Oh no, questo no! Alla faccia del nuovo inizio, eh? Mi toccherà inventare qualcosa. Sai che con i tamponi si possono ottenere dei capelli mossi? Sono della misura perfetta. Legali e aspetta. Visto? Favoloso. Wow, incredibile. Meno male che ne ho un bel po'. Proviamo. Per il tuo naso che cola. Questa equazione di fisica è piuttosto difficile. Oddio, oddio, oddio. Non ho più tempo. Dov'è la mia roba? Bene, andiamo. Finalmente sono pronta. Cosa? Non voglio uscire. Sto studiando fisica. Mi prendi in giro? Ma dai. Non hai visto il volantino? È proprio qui. E dice festa stasera. No! Ma perché? Sei seria? Guarda come sono vestita. Non posso andare in giro così. Ascolta, vieni con me. Ho una soluzione. Ti presto qualcosa dal mio guardaroba. Quello che vuoi. Qualunque cosa. Sul serio? C'è così tanta scelta. Proverò questo. Ottimo. So già che starai benissimo. Benissimo, eh? Non è così che definirei questo look. Ecco, prova questo invece. Non credo che mi stia meglio ad essere onesti. Si vede la biancheria intima. A questo punto meglio vestirmi da clown. Oh, sì, hai ragione. Non è un look che ti si addice. Che ne dici di un vestito rosso? Con le piume. Davvero? Va bene, lo provo. Ok, questo vestito è il vincitore. Ha un aspetto fantastico. Oh mio Dio. Mi ci sento proprio a mio agio. Nonostante le piume. Sei da urlo con quel vestito. Dalla testa ai piedi. Bene, allora. Pronta per andare alla fest? Ah, no! La scarpa si è impigliata. Sono inciampata. Sto cadendo. Emily, stai bene? Ti aiuto. Forse questo non è il vestito giusto per me. Prova queste. Oh, forse hai ragione. Ok, le metto. Wow, mi piace molto. E non credo che inciamperò stavolta. Sì, abbiamo ufficialmente il vestito giusto. Oh, cavolo. Mi è caduta la spallina. Accidenti. Se cade ora, cadrà anche dopo. Eh, di nuovo. Sarò tutto il tempo in imbarazzo. Ci deve essere un modo per risolvere. Mi serve subito una soluzione alla moda. Aspetta. Intanto prendo il nastro adesivo. Guarda. È biadesivo. Ne metto una piccola striscia sulla spalla. Poi, premo la spallina sul nastro, tenendola in posizione. E farò lo stesso anche dall'altro lato. Il nastro la terrà in posizione e non si sfilerà più. Wow. Che soluzione geniale. E funziona. Ehi, Ellie. Questa festa è incredibile. Sapevo che ti sarebbe piaciuta. Divertiti. Scusa, prendo in prestito questi. È ora di ballare. Woo. Vai, Emily. Mostra le tue mosse. E non devo preoccuparmi per i miei vestiti mentre ballo. Wow, Emily. Non sapevo ballassi così bene. Sono felice che tu sia venuta con me. Anch'io mi sto divertendo un sacco. Mi serve una manicure. Oh, ciao. Ehi. Come posso aiutarti? Solo un piccolo restyling. Nah, facciamo le cose in grande. Siediti. Ma non vorrei nulla di eccessivo. Fidati, sarai fantastica. Un approccio diverso. Sai quello che fai, vero? Certo. Passiamo alle sopracciglie. Mi piacciono al naturale. Lascia fare ai professionisti. Mi fai il solletico. Questo colore è adatto a te. Wow. Un altro capolavoro. Guardati. Ma cosa? Wow. Oddio. Grazie. Sei un genio. Finalmente, il giorno dell'appuntamento. Devo solo sistemare i capelli. Magari li faccio un po' ricci. userò la piastra. Ci avvolgo una ciocca e la sposto all'ingiù. Funziona sempre. Ciao, Emily. Sì? Posso usare la piastra? Non ho ancora finito. Per favore. Va bene. Prendila. Grazie. Sei la migliore. Ciao. Non posso aggiustarmi i capelli. Vabbè, fa niente. Sto già bene così. Emily? Che c'è? Non ti arrabbiare, ma... La piastra si è rotta mentre cucinavo. Come sarebbe? L'ho usata per cucinare. Ma come ti è saltato in mente? Va subito via. Uh, che esagerata. Ehi, mi presti il tuo asciugacapelli? No, non lo userò per cucinare o qualcosa del genere. Incredibile. Che stai facendo adesso? Ci sono rimasta male. Ecco, mi credi? Grace, non ti presto il phon. Bene, tienitelo. Certa gente è così egoista. Ma che pensava? Ehi, un momento. Posso ancora farmi i capelli come voglio? Spruzzo un po' d'acqua sui capelli. Poi li giro così. Li tengo fermi e uso il phon. Il calore li manterrà mossi. Ora posso scioglierli. Proprio perfetti. Wow, bel look. Mi piace. Un po' di profumo prima di uscire. Spero che a Jake piacciano. Oh, giusto in tempo. Non vedo l'ora. Un po' di profumo prima di uscire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Certe cose sembrano banali, ma tutto può essere sistemato con del trucco. Wow, ma sono bellissima. Questa sì che è una trasformazione. Posso aiutarla? Una festa. Guarda cosa ci hanno consegnato. Una festa in maschera. Wow. Prepariamoci. Forza. Iniziamo con una buona base. È la chiave. Forza, non sta cambiando nulla. Non vedo alcuna differenza. Ma che sfortuna. Non riuscirò a prepararmi per la festa. Se solo riuscissi a usare questi colori. A quanto pare, le matite possono diventare trucchi. Sì, basta lasciarle in ammollo. Ora sono morbide e pronte all'uso. Iniziamo. Il colore si applica in maniera omogenea. Passiamo al rosa. Aggiungiamo tutti i colori che vogliamo. Uno dopo l'altro. Ci siamo quasi. Sto ricreando un arcobaleno. E perché non fare una codina alla fine? Mi raccomando, su entrambi gli occhi. Niente male. Un trucco interessante. Ora manca il vestito. Lo so. Fantasia arcobaleno. Ok. Prepariamoci per la festa. Dovrei avere qualcosa qui. Niente che vada bene. No, ancora peggio. Ma perché ho questa roba? Oh no, come hai? Niente panico. Ci deve essere qualcosa che vada bene. Le calze a rete? Come? Devi pensare fuori dagli schemi. Ok. Un ultimo passaggio importante. Le calze ti aiuteranno a ricreare delle squame. Usa il blu sulle guance. E viola sulle labbra. Togli le calze e goditi il risultato. Adesso va meglio. Pronta per la festa? Andiamo. Forza. Questo posto è grandioso. Wow. Adoro il vostro make-up. Vero? Ci guardano tutti. Anche il DJ. Che carino. Dovremmo vestirci così tutti i giorni. Rudolf dal naso rosso. Questo maglione sarà un regalo fantastico. Nella scatola. Perfetto. Adesso basta fare il fiocco. Dov'è finito? Non posso lasciarla così. Mi serve un fiocco. I libri. Che idea. Proprio quello che mi serve. È minuscolo. Non va bene. Proviamo a vedere qui. Nah. Inutile. Pensa. Dove puoi trovare dei fiocchi? Camice. Vestaglia. Questo è interessante. Non è proprio natalizio. Potrei... Nah. Ci sarà qualcosa che posso usare? Ehi. Voglio giocare ai videogiochi. Sì. Divertente. È così fastidiosa. Un momento. I nastri. Fermo. Sono un ninja. Non faccio rumore. Ma che fai? Lo dirò a mamma. Ecco. Prendi questo. Giallo? Ma forse va bene. Ma posso migliorarlo. Grazie mamma. Torna qui. Sto vincendo. Questo funzionerà. Usa la piastra per capelli per lisciare il nastro. Fallo lentamente. Togliendo ogni piega. Quasi fatto. Ecco. Sembra nuovo. Ora lo leghiamo. Sopra. Intorno al retro. Lo infiliamo qui. Fatto. Non male, vero? È per me? Dammelo. Via quelle manacce! Ho quasi finito. Voilà! A chi serve un estetista? Oh, il telefono. È lui. Oh, cavolo. Le unghie. Ma devo rispondere. Non so che fare. Cos'è questo? Come c'è arrivato qui? Mi serve quello stupido telefono. Oh, in effetti mi andrebbe uno spuntino. No, non ora. Concentrati. Piano. Forza. Ok, ce l'ho fatta. Non ci credo. Ma ne ho pagato il prezzo. Tutto il mio lavoro è andato in fumo. Non è giusto. Ok, niente panico. Sono solo unghie. Ehi, il mio bicchiere d'acqua. Riproviamo. Ok, stavolta faccio diversamente. Userò dell'acqua ghiacciata per fissare lo smalto. Lascio le unghie in ammollo nella ciotola. Poi, dopo un po', lo smalto sarà sistemato. Devo dire a tutti questo trucco. Non ci crederai mai. Ah, puliti e splendenti. Il dentista consiglia di usare il filo interdentale. E io lo ascolto. Ehi, vado di fretta, ok? Wow, quel trucco è proprio bello. E guarda che colore è il suo rossetto. Non va per niente bene. È un disastro. Che posso fare adesso? Ottima domanda. Ti piace il filo interdentale, eh? Seguirò il tuo consiglio. Questi piccoli pezzi di filo possono aiutarti con il rossetto. Prima, strofinalo sul rossetto. Poi, premilo lungo il bordo delle tue labbra. Premi abbastanza. Wow. Fa una X sul labbro superiore e continua. Ora rimane solo una cosa. Guarda quanto è più regolare. Ripassa sulle labbra per uniformare il colore ovunque. Molto meglio. Vero? Sei forte, sorellona. Si va al cinema. Queste cose sono magiche. Hai visto anche tu? Lo so. Non esiste. Adoro questo canale. Come mi diverto. Oh, un messaggino. Ho un appuntamento. Devo prepararmi. Presto. Spostati. Aspetta. Guarda. Però... Questo risolverebbe i nostri problemi. Wow. Lo voglio. Subito. Pronto? Vorremmo ordina... Che efficienza. Non mi lamento. Saremo tutte e due bellissime per i nostri appuntamenti. Proviamolo. Ti metto questi piccoli fermacapelli. Lo chiudo intorno a una ciocca. Così. Ora accendiamo. Wow. Ma è facilissimo. Che capelli stupendi. Wow. Che accessorio incredibile. Wow. Grazie, Grace. Oh, ok. Tocca a me. Certo. Wow. È stato rapidissimo. Mi sento una diva. Ok. Vestiamoci. Pronta? Ma cosa? Ha annullato. I ragazzi. Serata tra ragazze? Sembra proprio di sì. Ah, guarda lì. Tuo miglior consiglio di bellezza? Diccelo nei commenti. Condividi questo video con gli amici e iscriviti al canale per vederne tanti altri ancora. Nói. Ciao. Noi. Ciao.